numero 5 set costituito da 4 tavolette ghiaccio non ingombrano grazie alla loro forma slim mantengono a lungo il freddo e sono ideali per picnic borsa frigo viaggi ottimo rapporto qualità prezzo acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 4 set di 5 tavolette ghiaccio compatte e ultra sottili riutilizzabili ed ideali per pranzi al sacco picnic campeggio lunghi viaggi in macchina ed altro ogni blocco di plastica riempito di gel trattiene il freddo molto più a lungo rispetto ai normali blocchi ripieni di acqua ottimo articolo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 3 set di 3 mini tavolette ghiaccio misurano 8 centimetri di altezza per 9 di larghezza ideali per borse frigo contenitori del pranzo borse termiche occupano poco spazio e sono molto funzionali per mantenere freschi gli alimenti trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 questa confezione comprende 8 tavolette ghiacchio colorate ultra slim hanno un'altezza di un centimetro circa sono poco ingombranti quindi consentono più spazio in fresier le tavolette possono essere riutilizzate prestazioni di raffreddamento lunghe ideali per frigoriferi portatili o borse termiche in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 1 questa confezione contiene 3 mattonelle ghiaccio slim ottimo prodotto ideale per la borsa frigo non ingombrano nel fresire sono molto funzionali mantengono a lungo il freddo trovi il link di questo articolo in descrizione